Tentato furto nel corso della notte i danni di un istituto bancario nella piazza principale di Delia. Intorno alle 4 circa, infatti i gnoti a bordo di un camion, risultato poi rubato, hanno tentato di asportare la cassa dello sportello Bancomat. I ladri, però avvertendo il sopraggiungere dei carabinieri della stazione locale, allertati dalla centrale operativa del comando provinciale di Caltanisset, si davano alla fuga, desistendo così di portare al termine quanto iniziato per evitare di essere sorpresi con le mani nel sacco. Infatti, secondo quanto accertato dai militari, i ladri avrebbero utilizzato il camion come ariete, lanciandolo ripetute volte contro il muro dell'istituto di credito, tanto da riuscire a creare una breccia. Colpi che avrebbero sradicato dai cardini del muro l'intero Bancomat ritrovato per terra. Al momento sono in corso le attività di indagine da parte dei carabinieri della stazione di Delia e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caltanissetta, al fine di ricostruire quanto accaduto e identificare gli autori del tentato furto che nel cuore della notte ha rotto il silenzio del piccolo centro della provincia nissena.